Buongiorno signor Ant. La sua missione, qualora dovesse accettare, riguarda il sabotaggio di un missile di nome Chimera che sta per distruggere l'intero pianeta. Lei dovrà salire a bordo di un jet supersonico e lanciarsi da 4.000 metri. Planando a corpo libero e sfruttando le correnti ascensionali dovrà raggiungere il missile e disinnescarlo in volo. Dopodiché dovrà... Ma questo è una cosa impossibile! Cosa impossibile! Ma che ve siete impazziti? Io ho paura pure di prendere l'aereo quando devo andare a... a Milano. Grazie a tutti!